Hanno ottenuto banco fino a tardanotte le Piazze del Gusto, dove tanta gente, dai turisti agli aretini, è arrivata per gustare le prelibatezze in mostra. La domenica è stata invece avara di soddisfazioni dal punto di vista meteo, ma i clienti non sono mancati. Le Piazze del Gusto, reduci dal rigore dell'inverno e da una primavera completamente matta, che ha costretto gli organizzatori a rimandarle più volte, finalmente hanno trovato il loro sfogo, regalando un aspetto insolito e sicuramente più vivo alla città. Anima della manifestazione è stata Piazza Sant'Agostino, trasformata in un grande prato, bene anche la Badia e via Vittorio Veneto. Per un bilancio definitivo però occorrerà attendere la giornata di lunedì, quando alle salsicce si sostituiranno i numeri, che nella loro freddezza sono sempre i giudici più implacabili delle manifestazioni. Unica nota, leggermente stonata, la concomitanza con il calcit e altre manifestazioni, che ad Arezzo non si riesce mai, ma proprio mai, ad evitare.